Inizia con una vittoria il cammino casalingo degli allievi dell'Arezzo nel derby contro il Siena. Partita a due facce, molto condizionata dalle pessime condizioni meteo che hanno fatto piovere un attentico nubifragio nella seconda frazione di gioco. Nel primo tempo invece gran partita della formazione a Maranto che è partita subito forte costringendo il Siena sulla difensiva. Già all'undicesimo i ragazzi di Violetti hanno trovato il vantaggio con Ricci che dal vertice sinistro dell'area di rigore ha trovato una parabola perfetta che è finita sotto la traversa sul secondo palo. L'Arezzo ha continuato a premere andando anche a raddoppiare al ventinovesimo con un altro gran tiro dal limite questa volta di Chioccioli che leggermente spostato sulla destra ha trovato l'angolo alto sul secondo palo. Sotto di due gol gli ospiti hanno provato a spingere per cercare di raddrizzare la partita riuscendo ad accorciare le distanze al trentanovesimo ad un solo giro di lancette dal riposo. Punizione dalla destra di Imperato calciata di sinistro a rientrare che è passata in mezzo alla selva di gambe dell'area di rigore e si è inzaccata sul secondo palo. Nell'intervallo ha iniziato a piovere copiosamente e sul campo allentato la seconda parte di gara è andata via senza particolari sussulti. Gli allievi a Maranto dunque si godono la prima vittoria in campionato. Dopo la sconfitta della scorsa giornata oggi è arrivata una vittoria contro il Siena, una vittoria che ha dimostrato carattere della squadra anche. Sì, io diciamo che più che il risultato, che fa sempre piacere soprattutto per la parte emotiva dei ragazzi insomma, guardo alla crescita che c'è stata sul piano della personalità e sull'idea del progetto di gioco che stiamo portando avanti. C'è da lavorare tantissimo ancora perché siamo partiti bene, abbiamo fatto 25 minuti con una buona idea, con una buona intensità creando situazioni. Poi dopo un momento di difficoltà abbiamo peccato un po' di personalità, soprattutto nel secondo tempo. Potevamo gestire più da squadra il possesso palla e con i due tocchi saremmo andati più volte magari a arrotondare il risultato. Però diciamo ottimi progressi dopo la partita di domenica quindi il segnale è più che positivo. Dove può arrivare secondo lei questo Arezzo quando sarà in forma? Porsi i limiti nel settore giovanile soprattutto è deleterio, non va mai fatto in generale. Questo è un gruppettino interessante, soprattutto fatto di ragazzi che sono veramente dei gran professionisti, vengono a lavorare con un'attenzione incredibile, con una voglia molto interessante. Se mantengono questa prerogativa secondo me è un gruppo che si può togliere delle grosse soddisfazioni. Vediamo per quanto riguarda gli obiettivi facciamo passare un po' di tempo, poi vedremo.